Mi è appena arrivata una mystery box dal profondo del web La apriamo e vediamo cosa ci ha mandato il profondo del web No Una mascherina Ah si Questo è un messaggio a tutte le generazioni future Guardate qua cosa è questa È qualcosa che non verrà mai dimenticata nella storia dell'umanità Questa è una mascherina Serve per proteggersi da potenti virus che sono arrivati nella storia dell'umanità Questa proviene dal 2020 Un anno che sconsiglio Un po' a tutti Chi ci ha vissuto è stato fortunato Perché ha visto un periodo storico importante Ma chi è nato dopo e vedrà questo video nel futuro Vi dico che era un po' una situazione Non so cosa fare So cosa fare Ma era molto difficile e strana E ovviamente si sperano ricapiti più nella storia Ma si è visto che nei secoli Ogni anno nel ventesimo anno del secolo Succedeva qualcosa di strano Noi speriamo non accada mai più Però comunque è successo E quello è un ricordo che un giorno i vostri nonni ricorderanno molto a cuore Vediamo che altro c'è nella scatola che è venuta dal profondo del web Ah ok ho capito Il volo fatto di ritorno a futuro fatto a mano in legno Mi piace, mi piace Guardate che bellezza mi è arrivata Questo è bello Vediamo se vola Non vola Vediamo se vola